investire nella formazione manageriale che cosa vuol dire che l'imprenditore deve non solo essere un bravo agricoltore ma deve essere soprattutto un bravo manager e deve essere in grado di rapportarsi con le altre aziende della filiera le sfide dell'agribusiness oggi sono le sfide della crescita legate alla crescita non solo del settore in questo momento favorevole in italia favorevole per la qualità dei prodotti italiani che è riconosciuta a livello mondiale e che sta dando grande impulso al settore in italia la sfida però è riuscire a cavalcare quest'onda e a far sì che non sia un trend passeggero ma che sia la base di una crescita solida ho scelto di seguire il programma agribusiness perché trovo un corso di formazione estremamente interessante questo programma ti dà una visione completa dell'insieme e del mondo complesso che l'agribusiness perché non ci sono solo i produttori c'è anche il fornitore ci sono le grandi distribuzioni quindi uno si fa un'idea complessiva del del mondo e poi magari sceglie la sua strada la prima cosa su cui deve investire l'imprenditore agricolo e chiunque lavori nel settore dell'agribusiness è la creazione di una cultura manageriale senza poi andare necessariamente nello specifico degli strumenti manageriali tecnici ma almeno in generale avere una formazione che permetta di avere una cultura manageriale di confrontarsi a tutto tondo con aziende anche di altri settori aziende ad altri livelli della filiera sicuramente le sfide per un imprenditore agricolo soprattutto sono quelle di cambiare e saper cogliere questo cambiamento anche in un'ottica futura consiglierei questa esperienza a tutti coloro che vogliono migliorare la loro situazione aziendale e costruire un futuro certo per la loro azienda l'esperienza che sto facendo in sdabocconi è sicuramente professionalizzante coinvolgente moltissimo e divertente il professore diceva nessuno ha mai detto I have a business plan ma hanno detto I have a dream il fatto di avere un sogno e combattere per per quello è sicuramente una cosa che l'università non mi ha dato Zabocconi mi sta dando gli impulsi e anche appunto sì il coraggio per affrontarli un'esperienza interessantissima formidabile e assolutamente da consigliare grazie a tutti